John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel terzo episodio della carriera allenatore gestionale Perché faremo praticamente solo gestionale con la S Roma di Ivan Juric L'obiettivo qual è? Andare a vincere boh più possibile, insomma vediamo sta stagione come va e poi valuteremo Detto questo sono già uscite puntata 1 e puntata 2 quindi prima di spoilerarvi qualcosa Se non l'avete vista recuperatevi, le trovate nella playlist sul canale Mi raccomando andate a vedere questi video qua Iscrivetevi al canale mi raccomando se non l'avete fatto perché è importante E consigliatemi qui sotto cosa fare nel prossimo episodio Oggi inizieremo il campionato e soprattutto andremo a concludere tutto il calcio a mercato Questo sarà un aspetto davvero fondamentale per quello che sarà appunto il percorso della Roma e di questa nostra carriera Quindi dobbiamo cercare subito di partire alla grandissima, cerchiamo di ottenere il più possibile E cerchiamo di farlo partendo dall'analisi della squadra avversaria, il Cagliari Cagliari che tecnicamente dovrebbe partire con scuffette tra i pali, difesa 5 addirittura Raga, Gozappa, Mina, Luperto, Stretti, Augello e Azzi, Bassi, Prati in mediana, Marin, De Iola, Luvumbo e Piccoli davanti Praticamente giocano senza giauti schiacciati Il fatto che facciano più di un gol per loro è praticamente impossibile Invece dice Tighitaga, la squadra Cagliari si affida al possesso palla per sfruttare le qualità tecniche dei propri giocatori Ogni volta che conquistano palla effettuano passaggi corti e si scambiano di posizione per cercare di aprirsi un bar Con la difesa avversaria Bisogna fare molta attenzione per non lasciarsi sorprendere Gioatori difensivi non c'è nessuno, gioatori offensivi Marin e Prati Stile difesa, nella fase di non possesso la squadra Cagliari si difende bassa Lasciando, e me ne so accorto, lasciando l'iniziativa agli avversari finché la palla non si trova nella propria tre quarti difensiva In attesa del momento giusto per intervenire e riconquistare il possesso Stile attacco, il principale punto di forza del gioco d'attacco della squadra Cagliari è la pazienza nella fase di possesso Preferisce ricorrere a passaggi corti muovendo i giocatori per aprire gli spazi e creare sovrapposizioni Piuttosto che affidarsi agli inserimenti dietro le linee degli attaccanti Quindi non è che facciano tiki-taka Semplicemente stanno chiusi dietro e fanno un botto di possesso palla Vabbè, ci sta, ci sta, qui ci dicono anche altre cose, le statistiche che al momento non esistono Perché non abbiamo fatto nessuna partita, va bene così Allora, partiamo dal presupposto che è il momento della conferenza stampa Parliamo con i media Le nostre sposte avranno un impatto, dimostriamo personalità, mi piace Allora Magambu ha impressionato tifosi addetti ai lavori, crede che... Ermoso riuscirà a limitarlo? Mmh, ero già la condizione di Ermoso Sì, dai Aspettate e vedrete, ho detto a Ermoso di fare tutto ciò che è necessario per la nostra squadra I tifosi sono scatenati sui social, non vedono l'ora di scoprire chi avrà la meglio tra Dobic e Nicolas Viola Bah, immaginati Come ha visto Artem in allenamento, li hai perso nervoso? Ho la massima fiducia in Dobic Vabbè, comunque ragazzi, che conferenze pessime, dai Che ne penso di Alexis Vega Eeeh, elogia Vega Cioè, ma ragazzi, ma dai, ma che roba è Vabbè, grazie per la conferenza Va bene così Le conferenze potevano migliorarle un pochino, eh Allora, Saud mi dice Mister, sto di non aver disperito un buon precampionato Ah no, allora ti caccio subito Ho avuto dei problemi che mi hanno impedito di rendere al 100% Ma li ho superati, quindi se deciderai di mandarmi in campo contro la squadra Cagliari Saprò ripagarla a una prestazione ad altezza Dovrei battere una concorrenza guerrita per una maglia da titolare Tanto io me ne ritorno giù, almeno vedo pure se il morale è scendossale Di bala, sto trovando un buon periodo Quindi mi farebbe piacere giocare, insomma Eeeh, ci penserò Ci penserò a Paolino Ma in realtà lo faccio giocare Paolino Ora li lascio tutti un pochino sulla, sull'attenti Però credo di averlo messo in, in titolare, no? Eh sì, ho messo sia Abdullah Mid che di bala Eeeh, sapete però che cosa voglio fare? Voglio togliere Vega dal, dalla posizione di tolera E voglio mettere Selmecar Perché io Selmecar mi voglio valutare Se è, diciamo, abbastanza forte da poterlo riscattare in questa, in questa stagione E pagarlo subito se abbiamo i soldi Allora, simuliamo Cagliari-Roma 0-2 gol di Dybala e di Hummels Allora, abbiamo anche delle valutazioni E vedo che tutto sommato Selmecar ha fatto una partita da 7.1, ragazzi Niente male, il miglior in campo è stato Dybala Credo abbia fatto un gol e un assist per prendere 9 Però, insomma, anche Saud ha giocato molto bene Ramsdale ha giocato molto bene Bene, 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 sono contento Partiamo bene, a differenza della Romavera E infatti è arrivato un messaggio da Dybala che dice Hey mister, la ringrazio Continua così Senza dirgli prestazione autorevole mi pare un po' troppo Però continua così, glielo diciamo Allora, andiamo avanti per capire se cambia qualcosa Ma noi un paio di acquisti dobbiamo farle E molti di voi mi avevano consigliato Io ricordo che dovremmo tecnicamente prendere Un vice Dobrik, niente male Forse l'ala sinistra titolare o l'ala destra titolare No, l'ala destra ce l'abbiamo In realtà potremmo far alternare sull'E a destra con... Non lo so, sono indeciso Vabbè, tecnicamente, raga, che cazzo dobbiamo fare C'è una squadra fortissima Cioè, sulla carta è veramente forte la squadra Allora, sicuramente dobbiamo prendere un futuro Hummels Pensavamo a Scalvini Dai 37, fino a 37.7.000 Però possiamo scendere i 30 Proviamo a capire se c'è modo di scendere i 30 Partiamo da 28 per Scalvini Vediamo che ci dicono 33 più l'11% Vi posso dire? Allora, io l'11% lo lascio Io provo a dire 29, 3 più l'11% Vediamo che dicono 32 Vabbè, paghiamo 30 milioni per Scalvini, ragazzi Abbiamo preso il difensore futuro titolare della nostra squadra Che comunque giocherà con continuità, eh Scalvini, ve lo dico Lo faremo giocare con continuità E poi apri anche la possibilità di giocare ogni tanto a 3 dietro Lo metto importante Voi direte, sic, ma perché lo metto importante? Perché Scalvini giocherà Cioè, con Hummels che ha 40 anni Non vi dico che non giocherà, eh Cioè, giocheranno tutti Io li farò alternare tutti quanti Essendo che dobbiamo occuparci principalmente della parte menageriale Scalvini giocherà Lo dico subito Ok, preso Scalvini Secondo me potevamo ancora scendere un po' Per me mi daranno tipo B o C Vediamo Ah, eh, vabbè Allora va benissimo Allora va benissimo E poi l'altro giocatore che mi piacerebbe prendere Che mi avete consigliato in tanti È Hendrik Che sulla trentina di milioni si porta a casa So che magari non è realissimo Però ragazzi, sapete che Ciaccia ha 18 anni Cioè, alla fine è una mossa che possiamo provare anche a fare Per costruire un progetto solido L'unica cosa che mi spaventa Che se io prendo Hendrik E poi se no meno no i soldi per riscattare Selme Care Eh sì Vendere subito le fe Se no meno non avrebbe molto senso Proviamo a offrire 27 milioni Dai, magari facciamo partire alla fine Vega Magari facciamo partire Vega per Selme Care Mo capiamo un secondo 37 comunque ne vogliono E tra l'altro nemmeno li abbiamo Figuriamoci 29,9 Vediamo un po' 37,3 Non calano Allora aggiungiamo il 14% per la rivendita E mettiamo 28,9 46 Ma che cazzo siete scemi Se offrissi 32,9 Ci devono pensare Ma diranno di no se ci devono pensare Però non abbiamo più soldi per fare il mercato ragazzi Neanche per vendere giocatori Quindi il nostro mercato dopo Scalvini Non dico che rischia di finire qua Ma siamo agli sgoccioli Però vi posso dire Mi interessa il giusto Nel senso inaccettabile 37,7 Allora vediamo un attimo se si riesce a calare comunque Mi interessa il giusto Perché la squadra c'è È forte comunque Non è scarsa Allora non abbiamo quei soldi Proviamo a chiedergli 32 Dai, 32 mi pare buono Sì facciamo anche lo stipendio 36,9 Eh scendono di pochissimo raga 36,8 Allora gli mettiamo una clausola altissima Tipo del 25% E gli offriamo 33,8 Vediamo 37,8 Non c'è niente da fare 33,9 di nuovo col 21% 52 Ma perché? Ma che sono scemi 34,9 No, niente Vabbè ragazzi Hendrick non lo prenderemo Non fa niente Qualcuno di voi me l'aveva consigliato Però Cioè non si può fare Guerra chimolini a vento È inutile Se non c'è i miei soldi Non c'è i miei soldi Allora Niente da fare Andiamo a prendere uno che costa meno Tanto deve essere il vice di Dobbic Io penso che punteremo su Dobbic Per parecchio tempo È vero anche che Hendrick Poteva essere spostato anche a sinistra Mi sa Può fare anche Sì Credo no? Fammi vedere Può fare l'attaccante destro Sì In quel caso spostiamo sulle Vabbè lo faccio a sinistro Se no C'è una casa sulla 64 milioni Tra l'altro Hendrick Vabbè mo capiamo Allora in hub rosa U lo vede una cosetta E cioè sulle 77 E vega No Se lo vede Se il mecar 78 Vega 78 Vega 26 anni E se il mecar 25 anni A me sto vega non me fa impazzire Però non posso venderlo Quanto valgono? Allora Questo vale 15 Questo vale 17 Non lo so raga No ci ragioniamo un attimo Intanto andiamo avanti con le partite Cioè con le partite con i giorni Poi capiamo pure Se mancano due giorni Allora è il giorno di Roma Empoli Abbiamo nuovi ruoli disponibili Per due giocatori Che andiamo subito a trasformarli Uno è Costa Che ci diventa terzino destro E l'altro è Saud Abdul Hamid Che ci diventa terzino sinistro Perfetto E fino a qua arrivano buone notizie Poi arrivano Idee per Ma sempre i stessi Insomma Fanno sempre i stessi È inutile Arrivano idee dal calcio italiano Vabbè Abbiamo quattro email non lette Tra l'altro Due giocatori che hanno cambiato ruoli E poi ci dicono che Adli Che nella nostra lista È stato L'altra dell'inunculo del Milan Cioè Quello che poi adesso manca La Fiorentina È stato Sondato dal Villareal E dall'Aggsburg Mentre Moschera È stato sondato dalla Juventus Parlo del Moschera Chiaramente del Valencia Allora Andiamo un attimo a capire Roma Empoli L'Empoli gioca con Davis tra i pali Ismaili, Viti Gocli, Cizze A tre Poi Male ed Anderson a centrocampo Ghiasi e Pezzella esterni Esposito e Fazzini Sulla tre quarti Colombo davanti L'Empoli gioca almeno L'Empoli è un po' più offensivo Questo devo riconoscerglielo Palla lunga La squadra Empoli è un avversario Forte fisicamente Tende a difendere bassa Con parecchi elementi In fase di possesso Spesso scavalca il centrocampo Con lanci lunghi Per servire gli attaccanti Sulla corsa O cercare una spizzata di testa E vabbè E quindi è un Empoli Che gioca insomma Non ha trazione anteriore Forte fisicamente Mena e lancia lungo Ci sta Nella fase di non possesso La squadra Empoli Si difende bassa Ok lo sapevamo Lasciando l'iniziativa Gli avversari Perfetto Finchè la palla Non si trova Nella propria trequarta difensiva In attesa del momento giusto Per intervenire E riconquistare il possesso Perfetto Quindi faranno catenaccio Anche contro l'Empoli Per me possiamo farcela vincere La squadra Empoli Può contare su giocatori Mobili e pericolosi in avanti Che provano a servire Tra le linee O con lanci A scavalcare la difesa avversaria Quindi catenaccio E contro piede Lanciando lontani Allora Vi dico che Potrei anche confermare La squadra messa in campo Sette giorni fa Però qualche cambio Lo vado a fare Non metto Tra l'altro ho fatto giocare Dunferisa subito Alla fine mi sono dimenticato Volevo farlo debuttare adesso Però va bene uguale Umels lo confermo Mancini invece Lo faccio giocare vicino A Umels Non metto Ermoso A sinistra posso confermare Abdullamid Sule Che c'ha? Perché c'è il punto esclamativo Su Sule rega? Vabbè non ne ho la più pallida idea Stavolta metto Vega Invece che il Selmequer Il centrocampo che confermo Potrebbe essere sempre lo stesso Mi spiace che Coni Stia giocando poco Vi porto Scalvini E lascio Costa a casa Anzi porto anche Costa Lascio Dragovic a casa Insomma tre portieri Mi pare un po' a tumaccia E voi direte Sicca ma non è rosa corta No Perché la mia idea è quella Di non spendere tutti i soldi Infatti adesso capiremo un attimo Che cosa fare con Hendrik Però non voglio spendere tutti i soldi Perché voglio puntare molto Sul settore giovanile Allora simuliamo velocemente Roma Empoli 2 a 2 raga Che peccato Che peccato Andiamo sotto con Henderson Poi pareggia Dobrik Entra le fie al posto di Reinders Ermoso al posto di Mancini Segna Paolo Di Bala il 2 a 1 Ma alla fine prendiamo gol da Esposito E vedo anche che insomma Non bene Ramsdale Male un po' a tutta la difesa In realtà Che peccato raga Che peccato Sconfitta Cioè sconfitta Pareggio che non ci voleva Buttiamo per strada due punti Sono comunque più di quelli Che ha fatto a Roma in generale Però vediamo un po' Ah perché può cambiare ruolo Ecco perché Ecco che voleva Adesso gioca nel suo ruolo Vediamo un po' le relazioni Del campionato spagnolo Più che altro mi interessano Ecco qua Attaccanti Eh ci sarebbe anche un ritorno di Sadik 27 anni 77 Boh non lo so Non sono giovanissimi diciamo Non sono giovanissimi Non sono giovanissimi Vabbè allora Andiamo qualche giorno avanti Non troppi perché Sennò finisce il mercato Io ripeto Un giocatore voglio prenderlo Uno Ecco è l'ultimo giro di mercato Siamo in perfetto stile Roma L'ultimo giro di mercato Possiamo fare Madonna tutti convocati in nazionale Quindi abbiamo anche la pausa Sono arrivati due relazioni Stavatori sui giovani E andiamo a vederle subito Perché sono proprio curioso Di vederle Noi da qui partiremo Allora Vedi relazione Vedi relazione Partiamo da questa qui Eh Pedro Silva Ci dicono che è un 33 47 C'ha 14 anni Potenziale 61 62 86 64 88 Allora noi volendo Lui lo rifiutiamo Secondo me Volendo tipo Tavares possiamo provare a prenderlo Vediamo un po' se migliora Vale già un milione di euro Santos vale 230 mila euro Per quanto possa crescere Adesso è veramente tanto scarso Il broccio ha 14 anni però Mentre Dos Santos vale 180 mila euro No anche Dos Santos non lo prendo Cerchiamo di essere meticolosi Su quelli che prendiamo Perché sennò finisce Ne prendiamo un miliardo E non utilizziamo nel migliore dei modi Quelli che abbiamo Allora tipo lui Vale 140 mila euro È vero Vabbè 14 anni comunque Varanno tutti poco Non lo so lui Parì Parì non lo so Alexis Parì Perché la cosa che mi sorprende È che potrebbe avere 42 a 56 56 e 400 anni è buono Però rischia di avere 47 Lo rifiutiamo Leon invece Pare molto buono Il bro vale 275 mila Quindi lo rifiutiamo Robin vale 240 mila Però può arrivare da 77 a 94 Quindi di sicuro diventa forte questo E quindi questo lo prendiamo Fiverr C'ha 140 mila euro di valore Può arrivare da 64 a 88 Lui è un po' più dubbioso Lo prendiamo Ma è un po' più dubbioso Roche Da 51 a 69 in questo momento Può arrivare Beh per volte Eh beh c'ha 17 anni Però vale mezzo milione Lui lo ingaggiamo Infine Robin Questo qua lo rimandiamo Da dove è venuto Perché chiaramente non ci può interessare Eeeh Ah volevo Vabbè Ho sbagliato la dirigenza Dalle mail della Roma Bella volo il programma giovanile Ti ringrazio Tra l'altro voglio un attimo Poi sistemare la parte del programma Del settore giovanile Bisogna mettergli i piani di crescita Eeeh Vediamo un attimo La Le relazioni della Germania Ci consigliano Berisha Allora vi dico Proviamo a fare l'ultimo tentativo Oddio cosa sto facendo L'ultimo tentativo per Hendrik Perché Ma che come funziona Trasferimenti No Io voglio un attimo Ok mi sarà un pallato Sono andato avanti di un'ora E mi si è sbloccato Perfetto Vi dicevo Dovremo provare a prendere Hendrik Quindi andiamo al lab mercato Riproviamo un attimo a capire Se c'è modo di prendere Hendrik A quelle cifre là Se no regà Andremo su un altro attaccante Tipo Ad Lee Vi faccio un esempio Che costerà sicuramente meno Però se si riuscisse A me non mi dispiacerebbe Eeeh Dice offrendo anche 29,6 Sì ma a me non mi pare Perché se Se offrendo anche 29,6 Se fossi riuscito a prenderlo L'avrei preso Visto che ho offerto anche di più Partiamo da 26 29,6 Accettato Fine basta stop Non voglio di nient'altro Se no poi mi aumentano Mi va bene così Regà prendiamo Hendrik A 29,6 Boni tutti che prendiamo Hendrik A 29,6 Lo mettiamo importante E ne vorrei mettere turno Perché sa rabbia 5 anni gli va bene Accettiamolo Ignoriamo la clausola recessoria Cerchiamo di risparmiare soldi Più possibile Inciamo una lira Perfetto Dai va bene così 62.000 a settimana Mi va bene Hendrik è un nuovo giocatore Della Roma Di Ivan Juric E ce l'ho dato A Quindi perfetto Allora Vi volevo dire Prima di andare avanti Anche se non è che abbiamo Chissà che soldi in questo momento Di vedere un attimo Gli obiettivi Che ci sono stati dati Per quanto riguarda Le richieste della dirigenza Quindi abbiamo Ingaggia un giocatore Per il tuo rival E non lo di difensore Ok ingaggia almeno due giocatori Con almeno di 20 anni Con almeno di un pensiero Di superare la valutazione Di media dei giocatori Attualmente in quel ruolo E abbiamo preso A meno di 20 anni Abbiamo preso Scalvini Perché abbiamo preso Scalvini E Dendrik Raga cioè Non lo so Vabbè capiremo A tempo debito Adesso io di fare altri acquisti E che cavolo Non ne ho voglia Quindi avanziamo direttamente Di ora in ora Ma in realtà potrei avanzare Anche a fine mercato Se me lo fanno schippare tutto Eh mi sa che se tengo premuto Forse me lo fa fare fisso Sì No Allora andiamo su calendario E tanto se devo fare ora per ora Tanto io il mercato l'ho concluso Ok Allora siamo al giorno di Juventus Roma Il calcio mercato è finito Che cosa sta succedendo Aspettate un attimo Fatemi vedere se abbiamo mail Prima di tutto Perché ci diranno un po' La Juventus Come è come gioca Allora ti è chiuso il mercato E va bene così Allora abbiamo vabbè La conferenza Però non parteciperemo L'analisi squadra avversaria La facciamo Volevo solamente dare un'occhiata Prima di tutto Alla squadra Da mettere in campo Contro la Juventus Allora sicuramente Qui torna Selmeker Proprio alla cieca Dunfries va bene Abdul Hamid va bene Anche se poi A me mettere Hendrik lì Non è che mi dispiacere Però non è adatto A giocare lì Dice no Quindi mettiamo Selmeker Hendrik lo facciamo Mentre la partita è in corso Non carichiamolo Di aspettativa prima di iniziare Detto questo Io penso che Se si potesse Sarebbe il caso Di andare a modificare Un attimo la situazione Di Hendrik Che cosa intendo dire A parte che toccamente Tutti i piani di crescita Allora Ramsdale Sette settimane Questo vabbè Equilibrato quattro No però ve posso Dico Questo una settimana Affatto Eh raga Allora ho messo i piani di crescita A tutti quanti E ho visto che effettivamente Hendrik non potrà mai fare Cioè vogliono 180 settimane Non potrà mai fare l'ala Farà sempre la punta E quindi lo metteremo Punta di tanto in tanto Allora Analisi squadra avversaria La Juve dovrebbe giocare a code Di Gregorio in porta 4-2-3-1 largo Bremer gatti Larghissimi Udoge La Juve ha preso a sinistra Danilo a destra Lugare degli fagioli sulla mediana Cup Menders in tre quarti Nico a sinistra Consesa a destra Correa davanti raga Quindi ha tolto il posto a Vlaovic Che se n'è andato Non c'è La Juve in pochina C'ha Douglas Ruiz Milik Perin Turam McKennica Lulù e Cambiaso Sei indebolita perdendo Secondo me Vlaovic Standard La squadra di Juve rappresenta Una sfida interessante Adotta Danilo fa il terzino a destra Equilibra con Udoge Nella fase di non possesso La squadra Juventus Si difende bassa Lasciando l'iniziativa Agli avversari Finché la palla Non si trova nella propria Tre quarti difensiva In attesa del momento giusto Per intervenire E riconquistare il possesso Strano Cioè quindi hanno fatto tipo Tiago Mattaro Hanno fatto tipo Allegri Stile attacco Giocatore offensivo chiave Correa La squadra Juventus Adotta sempre un assetto Ben organizzato Si affida ad una costruzione lenta Della manovra Servendo i giocatori Che si infilano negli spazi Dispone di gente brava Nel portare palla E sa rendersi pericolosa Anche dalle fasce Voi non lo vedete Sotto di me Però la Juve ha vinto Tutte e due le prime partite Di campionato Quindi sarà sicuramente Un banco di prova Molto molto interessante Roma mia Cerca di non fare figuracce Simulazione veloce Vediamo un attimo come va Mamma mia ragazzi Che sveglia che abbiamo preso Perdiamo 4 a 1 Segnano Coup Miners Con Seisao Coup Miners Uno manco ce lo fanno vedere Uno Ah e Correa Addirittura facciamo il gol Sul 4 a 0 Segnano Selme Kerr Ragazzi Altro che fase difensiva Non capisco perché Non fanno cambi Quando simuliamo Entra solo Baldanzi Per Di Bala Selme Kerr ragazzi Ha fatto gol sul 4 a 0 Bah è male 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 Ora diciamo che comunque Noi non puntiamo A quella roba lì Noi puntiamo ad altro Chiaramente Noi puntiamo magari Alla Champions League Loro puntano allo Scudetto Però non vi posso negare Come sicuramente mi dispiace Allora per quanto riguarda I giovani Mettiamogli un po' di piani Di crescita pure a loro Tipo al portiere Gli mettiamo due settimane Questo qua Poi mettiamo Dieci settimane Al terzino Cinque settimane Che poi tocca Stattenti Perché a parte Che bisognerebbe vedere So se vi ricordate Ci sarà anche quest'anno Il bug Che ci sono ruoli In cui cambiano E crescono tantissimo Tipo questo Fa il terzino Sinistro in carriera Per farlo diventare Mediano Ci mette quattro settimane Ma in realtà Ci mette quattro settimane Per diventare Centro cap E quartista Io lo tenterei Pure Jacopo Rossi No Allora per farlo diventare Ci mette tanto Ma per fare È uguale Proviamo a farlo diventare Mediano Vediamo un attimo Che succede Magari gli migliorrà Crescita Però mi pare Che questi Poghanno fa tutto A ste età Ecco questo russo Mi intriga Ah no Pensavo che si fa Il difensore centrale No no Tutti possono fare Sempre tutto Tranne i difensori centrali Non so perché E facciamo Vediamo se diventa La destra russo Che ne so Magari migliora Che te posso dire Comunque ho preso Tutti i difensori Ah ma perché è vero Perché abbiamo proprio Preso tutti i difensori Ma che ci penso Cioè era fattuale Come cosa N'era in dubbio Lui è terzino destro Questo difensore centrale Manco ci può diventare Manco c'è stare Tassaluti Ma perché Ah perché lo può fare Già lo può fare Ciò può diventare Centrocampista centrale Allora Perfetto I vieni di cresce Dai giovani li ho messi Vediamo se crescono Allora guardate Sono arrivate delle cose interessanti Tipo le relazioni Degli osservatori a giorni No ma io pensavo Sera di quelli dei primavera No non me ne faccio niente Adesso degli osservatori Vi dico la verità Mi interessavano molto Quelli dei primavera Però potremmo assumerne un altro Non abbiamo 2 milioni e 8 Ma 2 milioni li abbiamo Quindi assumiamo Brankovic E lo mandiamo A fare in No Uno l'abbiamo mandato in Brasile Uno l'abbiamo mandato in Francia Uno lo mandiamo in Africa Lo mandiamo in Africa Nell'Africa Centrale A cercare Il nuovo Samuel Leto Così D'amblè Senza senso 9 mesi A cercare A cercare punte 9 mesi a cercare punte Vai Vai a cercare Poi anche trequartista E anche facciamo un centrocampista Dai Va bene così Non mettiamo troppa roba No i difensori no Ma in realtà mi sono appena accorto Di aver sbagliato sempre Di non aver mai messo Con precisione Ho sempre messo qualsiasi Ma che tasto è quello che mi dicono di spingere Che cazzo di tasto è Un fregnetto fatto così Tutto strano Che tasto è Perché non lo so Boh vabbè Non riesco a capire che tasto sia ragazzi Vediamo la verità Allora sentite abbiamo fatto una vittoria Un pareggio e una sconfitta È il momento di vincere contro il Genoa No Adesso ci faranno un'analisi contro il Genoa Ok ce l'hanno fatta Ehm Prima di fare la formazione Guardiamo l'analisi del Genoa Così capiamo anche con chi giocare Inutile guardiamo prima Facciamo la mia formazione E poi ci facciamo guardiamo l'analisi Allora Gioccolini in porta Allora sono molto bassi 5-3-2 di contenimento Con De Winter Bani Centrale Vasquez E fa il bracciato di sinistra Aaron Martin E Sabelli Sulle fasce bassi Badere immediata Frendrup E Marinoski Tra l'altro Coraccio Marinoski Si è spaccato tutto Da Mezzali Poi Vitigna E Pinamonti davanti Volevo vedere se si impacchiavano qualcuno Come sia De Baio Forse De Baio Non è al Genoa Forse Boh non lo so Boinan No Tutti gli altri ci stanno Anche Boinan Contro piede La squadra Genoa si prende pochi rischi E punto tutto su un assetto difensivo solido Non appena riconquista palla Però Cerca di ribaltare immediatamente il gioco Con lanci lunghi A scavalcare la difesa Per gli attaccanti veloci Ok Quindi ci servono dei difensori Molto rapidi Nella fase di non possesso La squadra Genoa si difende bassa Lasciando iniziativa agli avversari Finché la palla non si trova Nella propria tre quarti difensiva Ok In attesa del movimento giusto Per intervenire a riconquistare il possesso Non hanno giocatori difensivi chiave Offensivi c'è Vitigna La squadra Genoa sfrutta in maniera eccellente Le ripartenze Riconquistando palla nella propria tre quarti difensiva Prima di gettarsi in avanti Affidandosi una serie di passaggi Per scavalcare la difesa Ok Allora Ho chiara la formazione che voglio Schierare in campo E ve la spiego subito Voglio schierare sicuramente Al 100% Voglio levare i mancini E mettere Ermoso Non è ancora il momento di Scalvini Voglio però togliere Ferguson E mettere Gone Perché ci sarà bisogno di botte In mezzo al campo E invece davanti Me la gioco con Hendrick questa Perché essendo che loro Insomma Sono piazzati Se non vede gettare palla in aria Nella speranza che succeda qualcosa Non ha molto senso E quindi Dobbic potrebbe essere bloccato In ogni momento Io invece ti metto Hendrick Dal primo minuto Chi è che mi manda le mail Oh e basta Questo è Messico e Polonia Che sono interessato a me Ma che mi frega Mi metto Hendrick Per togliere punti di riferimento Agli avversari Simulazione veloce Vinciamo 4 a 1 E ha pagato ragazzi Perché? Perché segna Umels Subito Che insomma abbiamo confermato In fase di defensiva Poi ci Entra Dobbic per Hendrick Fa gol di bala subito dopo Poi ancora di bala Quindi Dobbic Chiude La questione sul 3 a 1 Ha fatto 3 a 1 Curioso di vedere Nelle statistiche Come è andato Fammi vedere la panchina R2 Come è andato Hendrick 6.2 Sulle 6.3 Vedo vabbè Bene Dobbic Benissimo di bala Addirittura 10 Ha fatto una buona partita Manu con E Ero certo che aveva giocato Una buona partita Non ha giocato benissimo Hermoso invece Peccato Vabbè comunque alla fine Abbiamo vinto Allora arrivano a disposizione Da Tavares Che diventa alla sinistra Poi abbiamo Un nuovo messaggio Per da di bala E i misteri Stanno andando molto bene Per noi ultimamente Se so a quanto Stanno andando a giocare Per lei Questo mi chiedevo Dunque se fosse momento Per giusto Per il palo del rinnovo Ci devo pensare Abbasserà un pochino Il morale Però fatemi un attimo Pensare ragazzi Al rinnovo di bala Che palle però paulino Cioè abbiamo fatto So che stai facendo bene Io non lo metto in dubbio Che tu stia facendo bene Ma poi perché Non ti racconseggiarmi robe Non lo metto in dubbio Che tu stia facendo bene Però cioè siamo all'inizio Ma lasciami un pochino respirare Mamma mia Vediamo la prossima partita Se di bala La prossima partita Fa doppietta Gli rinnovo il contratto A cifre molto vicine A quelle che sono Insomma quelle che già prende Però gli rinnovo il contratto Se fa bene Vabbè a me mi hanno stufato Di mandarmi le relazioni E basta cioè Non è possibile tutte le volte O aggiornate Ma aggiornate di che voi Di chi Di cosa Cioè se mi metti un giocatore Non me ne frega nulla Di bloccarmi il menu Perché mi hai messo un giocatore Cioè me li vedrò Quando ho bisogno Adesso il mercato è chiuso Allora Analizziamo l'Udinese Altra partita molto importante Ricordo voi qualcuno di dire Ma non gioca mai No ragazzi Cioè a me piace fare La parte gestionale Io rischierò di essere Cacciato ma Ocoglie in porta In difesa con Giannetti Biolka Baseli Noi quando giocano Con gli esterni alti Ci purgano sempre Karlström e Pagliaro in mediana Brenner e Toven sulla tre quarti Zibue e Assane Chi è Assane Sarà Camarà Forse è Camarà Tutta fascia Lucca davanti In panchina Anno Sanchez Occhio a Sanchez Mamma mia Davis e Kellenkamp Allora Tiki Daga Ecco questi sono come Sono come il Cagliari Vedrete pareggieremo La squadra Udinese Si affida al possesso palla Per sfruttare le qualità tecniche Dei propri giocatori Ogni volta che conquistano palla Effettuano passaggi corti E si scambiano di posizione Per cercare di aprirsi un valco Nella difesa avversaria Bisogna fare molta attenzione Per non lasciarsi sorprendere Attenzione eh Voi difensori tutti In attacco nessuno Ocoglie a Baseli Biol In difesa Nella fase di non possesso La squadra Udinese Si difende bassa Lasciando l'inizio di vari avversari Finché la palla Non si trova nella propria Tre quarti difensiva In attesa del momento giusto Per intervenire e riconquistare il possesso Taggi corti Muovendo i giocatori Per aprire degli spazi E creare sovrapposizioni Piuttosto che affidarsi Agli inserimenti Di trolelline degli attaccanti Quindi non hanno inserimenti Quindi non ci servono Difensori veloci Io penso che confermerò Ancora Ermoso Ma io penso che La formazione La confermo quasi tutta L'unica cosa È che serve un po' più rapidità E un po' più di misura Io penso che metto Lefe stavolta Non Ferguson ma Lefe A destra abbiamo deciso Di avere solamente su Le Quindi mi va bene Avere solamente su Le Non ricordo perché Non servevamo altri a destra Ma va bene così Hendrick lo confermo Dybala lo confermo Io penso che Possiamo giocare così È vero che Scalvini Ancora non sta giocando Ma sapevamo insomma Che avrebbe giocato un po' poco L'abbiamo preso Non per fargli fare il titolare Cioè se abbiamo giocatori forti Facciamo giocare loro Romodinese Simulazione veloce 1 a 1 Io lo sapevo Che avremmo pareggiato questa partita Lo sapevo Lo sapevo Andiamo avanti Anzi andiamo sotto Con Biol Hendrick rimane in campo Per 90 minuti Fa gol Quindi si sblocca Negli ultimi fissuti Entra anche Scalvini Io non capisco i cambi del mio vice Io caccerò il vice ragazzi Cioè noi siamo sotto 1 a 0 Lui mette Mancini per Hermoso Perché? Poi siamo Pareggiamo l'1 a 1 Dobbiamo far gol A un quarto a fine Leva anche Hummels E mette Scalvini Ma che cambi sono? Boh vabbè non lo so Io veramente delle volte Resto basito Però non potremmo dire Che al momento Stia andando poi così tanto Bene in campionato Allora Nella mia idea che cosa c'è? Affrontiamo adesso L'Atletic Bilbao In Europa League E poi dopo Possiamo anche concludere questo video Poi nella prossima puntata Affronteremo È praticamente tutto il girone d'andata Allora Analizziamo prima la squadra avversaria L'Atletic Bilbao gioca con Chi cazzo è quello? Aguirre Zabala Zabala Vivian Paredes De Marcos Leque Prados De Galareta Inaki Williams Nico Williams Sunset Vabbè l'attacco è devastante Merton Allora infatti l'attacco Williams Sunset Williams Difesa Vivian De Marcos Sunset Allora Gioco sulle ali La squadra Atletic Club De Bilbao sa rendersi minacciosa Soprattutto dalle fasce Ogni volta che riconquista palla Cerca di servire immediatamente I giocatori più avanti In posizione defilata Il pericolo aumenta Quando anche i tersini salgono Per supportare l'attacco Ecco Saremo molto accorti E metteremo Cone in mezzo al campo Quando perde palla La squadra Bilbao Atta un pressing aggressivo Per provare a riconquistare Il più rapidamente possibile Ecco Deve andare subito in verticale A centrocampo Per provare a riconquistarla Ok È un'attica che consuma Parecchie resistenze Che può creare problemi All'assetto difensivo Se non viene eseguita Con la giusta coordinazione Stavolta mettiamo Dobic Che potrebbero scoprirsi In fase di possesso La squadra Bilbao Preferisce non affrettare i tempi E mantenere sempre le posizioni Servendo i giocatori più mobili Solo quando riescono a trovare Degli spazi Occhio In particolare Ai cross dagli esterni Allora Dove qua va fatta Un'analisi abbastanza accurata Nel senso Ve la spiego Capisco Abdul Hamid Capisco Dumfries Anche se forse No però non me la sento Di mettere Samuel Dal Non abbiamo terzini difensivi Purtroppo Però non me la sento Di mettere Sule Vi dico la verità Perché metto Vega Perché magari mi fa più La fase difensiva Che sa fare anche l'esterno A differenza di Sule Vai sì In realtà anche Sule Sa fare l'esterno No però mi fido più di Vega Davanti metto Dobik A centro campo C'è bisogno di concretezza Quindi vado a rimettere con E Dalla prossima Ferguson torna Cerchiamo di giocare Abbastanza bassi Mi raccomando ragazzi Ah posso mettere i cambi? Come Abdul Hamid Come Abdul Hamid ragazzi Ho sbagliato Vabbè mettiamo per Samuel Dal Sostituzioni suggerite Sostituzioni suggerite Dobik per Hendrik Ok non l'avevo vista Stato se si poteva fare Poi mettiamo Suggeriamo Vega Ma no ma che cazzo sto facendo Pensavo che si potessero Mettere i panchinari Di dammi Dobik Allora questo che cos'è? Il cambio no? Dobik per Hendrik Mettiamo come secondo cambio Come primo cambio Mettiamo invece Che Vega esce Per far spazio a Sule E poi E poi basta E poi basta Poi se la vedono loro Perché ecco possiamo mettere Che Reinders esce Per far entrare Ferguson Però non me la sento Di togliere con E Poi non so come andrà Quindi non ve lo posso preannunciare Però al momento preferisco Dargli queste indicazioni qua Bello che si possa dare anche Le indicazioni Perché così abbiamo anche un'idea Di quello che potrebbe essere la partita Si gioca a Roma Bilbao Quindi gioca Vega con Selmeker Simulazione veloce Vediamo come va Abbiamo vinto 2-0 ragazzi Guardate lì Segna Dobik Poi entra su Leper Vega Entra Dal per Saud Quindi alla fine niente Il cambio di gioco Ha fatto va bene uguale Dobik secondo Entra in camp Cioè fa gol 2-0 E poi Baldanzi entra per di Vabbè ha fatto un cambio Di quelli che avevo chiesto io Ma va bene uguale Importante È che un cambio l'abbia fatto Hendrik non entra Però abbiamo vinto 2-0 Quindi le nostre indicazioni sono Mi pare almeno Sotto sto punto di vista In classifica in Serie A Siamo sesti Tutto perfettamente Come dovrebbe essere Abbiamo 8 punti In 5 partite Si è andato bene l'Inter Che ce ne ha 15 La Juve ne ha 13 Il Napoli ne ha 13 La Fiorentina ne ha 12 Il Milan agli stessi nostri Il Bologna agli stessi nostri L'Atalanta meno Delusione Torino Mamma mia Delusione anche Genoa Lecce eccetera Però comunque devo dire Che tutto sommato Non mi sta dispiacendo Il percorso che abbiamo fatto Fino a questo Allora ragazzi Questo video finisce qui Io vi ringrazio Per aver visto questo video Se volete un'altra puntata Mi raccomando lasciate tantissimi Mi piace ma tantissimi Ho un botto Almeno 3.000 Domani vi porto subito Un altro appuntamento Grazie per aver visto questo video Buonasera dall'alene come sempre Ci vediamo al prossimo video